Ma che è, mamma mia, l'ulicino, ogni volta che toccavalla questo? Mamma mia! Che cavolo ha fatto? Ciaccia, guarda quello solo! Mamma mia! Dai! Vai, Marosic! Ma come? Dai! Gol! Mamma mia! No! 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 Che parata che gli ha fatto! Mi ha messo all'angoletto qua! Eh, ha ridato la parata bene! Ah, cazzo! Oddio mio! Oddio! Toccavose, toccavose! Mamma mia! E perché questo è un tuo gioco fatto? Ciò che fanno in anni! E si cambia ancora perché... Questo gioca una partita l'anno! Sì, sì! Gioca mai! Un valentrapposto! Vai! Vai, è Chesedo! Vai dove? Vai lì! L'orizzontale! 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 Non taci! Ma questo attraversa! Baviera! 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 Allora che passa? Per cavolo! E chiamala! Mi dicevo! Sono stato in Tragoglieri! Mamma mia! Questo ci mette proprio passione! Guarda che culo! Guarda che culo! Oddio ci mancava! Non c'è un spazio per il giro! Non c'è un giro! Mamma mia! E poi una direzione di Luric! Pericolosissima! A parte di giro della Lancia, c'è anche la fidetta mamma del... Cioè che cazzo l'hanno fatto? Un po' troppo lungo! Non una sanatica! Può partire... No, vabbè! Io non ho parole! Guarda tu che roba! 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 E poi l'hanno preso! Però mazza il culo questi! Cioè non è il culo! Quella rovogliosa! Manu dice prima di più! Mamma mia! Caeseto poi mo detesta! Cioè poi con questi ce l'ho detto sempre al 94esimo ultimo! Ma vera, vedi tu! Almeno bisogna solo maniche ma! Eh no, ma vaffanculo! Guarda qua se c'è il giro degli scassi! Sono scassi! Cioè... Quello mi detesta ma che cazzo ha fatto! Mamma mia! Ma più che lui deve stare malucchiera, malucce, la palla, la scelta e l'agga la sua fascia. Ma tira la forica, palla la forica da parte della parte del campo, no? Ma non cazzo ha fatto! Mamma mia! Che pippe che ci stanno, questa squadra! Cioè, questa è entrato! Ma non ha fatto il cazzo loro! Eh sì, perché c'era il mobile! Non esistava più l'attacco, e dopo di lui c'è questo pure che è ancora la fine! Che roba! Ho addirittura pebbio questa squadra!